Allora siamo in una pasticceria, cosa che ha a che fare comunque con questo nuovo allestimento, perché? Perché quest'anno i commedianti mettono in scena una commedia proprio da pasticceria Canoli e Bignè, più pasticceria di questa e quindi vedremo una commedia molto molto divertente che circa 15 anni fa è stata scritta da Augusto Spadoni un po' anche stato il padre di tanti attori dialettali fanesi scritta da Augusto Spadoni e Paola Maggi abbiamo riproposto questo lavoro diretto da Marco Lucertini e poi tutti gli attori della compagnia teatrale voglio ringraziare in maniera molto forte perché sono tutti molto molto bravi quest'anno faccio la parte di un fotografo e Nicola è un farmacista hai capito? Dietro questo io insomma sono Vernareccio, praticamente non sono sposato e c'è una signora che mi circuisce, mi vuole insomma fare di tutto per insomma per venire con me ecco e allora alla fine vedrete molto brillante il secondo tempo, scoppiettante, proprio bellissimo guarda c'è una bella collaborazione quest'anno che contraddistingue l'allestimento quest'anno ci siamo voluti un po' andare un po' oltre a quello che è il puro divertimento il lato culturale un pochettino siamo andati anche sul sociale tant'è che abbiamo avuto la possibilità di incontrare chi gestisce il centro di San Lazzaro il CTL San Lazzaro insieme alla collaborazione della SCOP che è la società cooperativa sociale e appunto sono qui con noi ci spiegheranno appunto di cosa si tratta così Ringrazio i Comediant per la disponibilità e la sensibilità che hanno mostrato nel proporci questa collaborazione già dallo scorso anno, collaborazione che nel tempo si è concretizzata tant'è vero che quest'anno non ci sembrava vero quando ci hanno proposto di realizzare alcune parti della scenografia e alcuni oggetti che andranno in scena quindi Canoli e Bignè 20, 21 e 22 marzo al Cinema Politeama prevendita già da venerdì mi raccomando accorrete numerosi, numerosi Canoli e Bignè